Ratzinger in queste omelie dà proprio questa impressione, lui qualsiasi cosa faccia, qualsiasi cosa scriva, qualsiasi argomento tratti, emerge sempre questo amore che ha per Gesù Cristo. E questo trascina, pensiamo a un grande film d'amore, come non ci trascina una grande storia d'amore, come non ci coinvolge. E in fin dei conti i testi di Ratzinger hanno questa poesia, esprimono la sua grande storia d'amore per Gesù che ci coinvolge. C'è un episodio che narra nei suoi allievi, quando il giovane professore un giorno entrò in chiesa vedendo una vecchietta in ginocchio che pregava e disse ai suoi allievi, vedete quella vecchietta in ginocchio che prega, sa molto più di teologia lei che non io.